amici di fano tv ben trovati in questo approfondimento in studio andremo a parlare di una giornata davvero speciale si celebrerà il prossimo 26 novembre ed è la giornata regionale dedicata al commercio eco e solidale diamo subito il benvenuto ai nostri ospiti massimo mogiatti presidente della cooperativa sciadilli buonasera e ben trovata anche alla nostra melissa rosati socia e volontaria della cooperativa sociale ollus mondo solidale allora partiamo dal mondo delle cooperative che lavorano dietro a questo progetto importante di economia sostenibile partiamo dalla cooperativa sciadilli storie di uomini e di caffè perché si occupa proprio di importazione di caffè crudo esatto è proprio questo sciadilli si occupa di importazione di caffè crudo e lo fa direttamente da gruppi di produttori del sud del mondo perché evidentemente il caffè è lì che si trova e lo fa seguendo i criteri del commercio eco e solidale che vuol dire essenzialmente avere non la certezza cercare la certezza che lungo la filiera del caffè che parte dal contadino e arriva fino alle nostre tavole tutti gli attori ricevono quello che è giusto per il pezzetto di lavoro che fanno questo è in sintesi quello che si intende per commercio eco e solidale la cooperativa sciadilli quando nasce la cooperativa sciadilli nasce nel 2012 quindi dieci anni giusti ma nasce diciamo dall'esperienza precedente all'interno di mondo solidale legata all'importazione di caffè capito che il caffè è un prodotto davvero importante perché è la commodity che dopo il petrolio muove i maggiori flussi economici e finanziari nel mondo quindi stiamo parlando di numeri grandi quindi capito che agire riuscire ad incidere anche in maniera piccola in un settore così grande poteva portare dei cambiamenti importanti per cui è nata l'idea di fondare una cooperativa che si specializzasse e che si occupasse solo ed esclusivamente di caffè proprio per approfondire il tema e riuscire a essere professionalmente preparati e muovere qualcosa davvero. La cooperativa sociale invece mondo solidale è una rete di persone che si adopera a far funzionare questo tipo di commercio giusto Melissa? Sì la cooperativa mondo solidale nasce nel 1993 ha tre soci volontari più di 3.800 soci all'attivo circa 240 volontari ed è distribuita diciamo la forza di questa cooperativa distribuita un po' in tutte le marche in 13 botteghe del mondo che appunto si trovano in varie città e cercano proprio di portare il commercio equo nelle nostre nei nostri territori proprio per spiegare l'importanza di cosa c'è dietro un prodotto e le storie e appunto sicuramente il commercio che è fatto proprio di relazioni e di qualità di una giustizia sociale che proprio si rende operativa e concreta nella nella promozione di questi prodotti che provengono dal sud del mondo. Il 26 novembre si celebra questa giornata quest'anno succede a Fano ed è il frutto di un lavoro sinergico di più cooperative. Senz'altro sì è un lavoro sinergico che nasce dalla volontà della regione Marche che è stata tra le prime adottarsi in Italia di una legge a sostegno del commercio equo e solidale. Una legge importante perché anche se con piccoli finanziamenti che non sono alla fine l'essenza di questa cosa ma quello che è importante è che venga riconosciuta l'attività del commercio equo e solidale come un'attività commerciale. Difatti la legge nasce all'interno dell'assessorato al commercio ed è una giornata importante ed un momento importante perché quello che vogliamo ribadire è proprio questo. L'idea che si possa coniugare la sostenibilità economica con attenzioni di carattere etico, sociale, ambientale è assolutamente possibile. L'idea che un'impresa che si occupa di qualunque cosa che però lo fa con criteri etici sia da un punto di vista sociale che ambientale sia tutto sommato un'impresa minore quasi di serie B questo bisogna scardinarlo perché noi riteniamo di essere imprese a tutti gli effetti e riteniamo di poter, e credo che l'impatto l'abbiamo già fatto, dimostrare che giustizia sociale e sostenibilità economica possono assolutamente stare insieme, lavorare a braccetto e andare avanti tranquillamente. Questo è quello che vorremmo provare a dimostrare in generale e in particolare il 26 di novembre. Si parla di commercio equo e solidale e comunque sostanzialmente di commercio e poi abbiamo anche annumerato come tuo titolo ma anche quello di altri, quello di volontari. Ecco, spieghiamo bene quindi la funzione di questo gruppo, di questo team, di persone che svolge un lavoro importante dietro le quinte e non solo. Sì, infatti diciamo che io sono un po' la voce di tante anime che appunto ruotano intorno a Mondo Solidale e dentro l'anima di questa che è una grande famiglia e che come diceva Massimo giustamente facciamo commercio perché dovrebbe essere così il commercio internazionale, non ci dovrebbe essere bisogno di volontariato. In realtà noi siamo volontari proprio perché non c'è una forza economica sufficiente per poter eliminare quel binomio sfruttatore-sfruttato che ancora purtroppo a livello internazionale c'è. Quindi quello che cerchiamo di fare è di ragionare su una base di economia reale, è appunto di cercare di portare sensibilizzazione, tenere le botteghe aperte e poter promuovere prodotti di grande qualità che appunto come primo criterio salvaguardano la giustizia sociale. Quindi una filiera corta, una filiera giusta sia per il produttore che per il consumatore e quindi cercare di tagliare tutte quelle fasi intermediarie che nell'ambito del commercio internazionale creano appunto sfasamento di prezzo rispetto dal produttore appunto al consumatore e noi appunto siamo una forza volontaria che al momento esistiamo proprio per dare dignità ai produttori e ovviamente, ripeto, un prezzo trasparente e garantito anche per il consumatore che viene nelle nostre botteghe perché sa di trovare qualità, sa di trovare delle storie e delle relazioni dietro i prodotti che veramente danno una grande appunto qualità al prodotto finale. Il centro Don Orione di Fano ospiterà questo appuntamento che partirà il 26 dal mattino quindi vogliamo guardare un po' insieme anche il programma che partirà il mattino con una conferenza di presentazione, giusto? Sì, partirà il mattino con una conferenza che approfondirà appunto i temi di cui abbiamo già parlato ci piace davvero dire che siamo riusciti a coinvolgere due personalità importanti nel mondo dell'economia che sono il professor Leonardo Becchetti, docente all'Università di Roma Tor Vergata e impegnato da moltissimi anni in questo settore nel dimostrare anche attraverso studi quanto questa possibilità di coniugare etica e sostenibilità sia davvero fattibile e la professoressa Viganò dell'Università di Urbino, anche lei da anni impegnata nella difesa del territorio, delle produzioni locali e quello che vorrei sottolineare prima di passare la parola a Melissa per il resto del programma è i discorsi e le attenzioni che noi stiamo provando a proporre attraverso questa giornata quindi giustizia sociale e ambientale ricordiamoci bene che non riguardano solo ed esclusivamente produttori del sud del mondo sino a pochi anni fa hanno probabilmente riguardato soprattutto loro e noi ahimè abbiamo un po' fatto finta di niente perché erano lontani, erano altre persone ora questi problemi riguardano qui i nostri produttori quindi il contadino che fa il grano lì dietro quello che ha la vigna, quello che ha gli olivi ed è per questo che il commercio equo è solidale negli ultimi anni sta veramente avendo un focus e un'attenzione particolare anche ai produttori italiani perché ahimè l'ingiustizia sociale ed economica non riguarda qualcuno lontano ma riguarda chiunque sia in questo settore e io credo che in quest'ottica si pongono anche alcune presenze nella giornata proprio a dimostrare quanto il commercio equo sia una questione veramente globale e che va affrontata in maniera globale e poi non mancheranno ospiti, non mancheranno defilè di moda, giusto? Sì, diciamo che il programma del pomeriggio è un bel programma colorato e profumato perché ci sarà una sfilata appunto a cura della cooperativa Contatto una sfilata di abiti senza tempo e poi ci saranno vari laboratori e workshop a cura di appunto Mondo Solidale con il laboratorio Cioccolaltro il laboratorio del caffè a cura di Perfero che è un torrefattore regionale appunto di Fermo quindi della nostra regione e poi un laboratorio a cura dell'emporio è di dolci quindi di appunto gastronomia poi il birrificio Oltremondo con degustazioni di birre e anche la cooperativa Campo con appunto degli assaggi di appunto quello che diceva Massimo produttori locali che operano un'economia proprio sostenibile rispetto della terra, rispetto proprio delle tradizioni e appunto di tutta la filiera proprio dal produttore al consumatore in questa rete, in questa sinergia che appunto anche in occasione di questa conferenza vogliamo proprio ribadire l'importanza di fare comunità una comunità che sia veramente sostenibile di autoaiuto e che porti poi sensibilizzazione e anche speriamo una maniera diversa di poter vivere Per partecipare a questi laboratori e workshop è necessario prenotarsi, iscriversi in qualche maniera o si può fare direttamente nella giornata del 26? Sì, è possibile Si può fare tranquillamente Esatto, la libera partecipazione tra l'altro il programma lo possono trovare sul sito punta sull'eco www, punta sulleco.it e quindi potete trovare programma, produttori e appunto tutto il materiale, le informazioni necessarie E dicevamo poco fa ci sarà anche un ospite d'eccezione Sì, ci sarà in occasione appunto della undicesima giornata dedicata al commercio eco ci sarà anche Giulia Innocenzi che è una nota scrittrice, bloggere conosciuta quindi verrà anche a festeggiare anche lei con noi la giornata dedicata al commercio eco Siamo in dirittura d'arrivo lascerei a voi la parola per invitare gli amici a casa allora Io direi che sì, l'invito è quello di venire a conoscerci un po' meglio perché come abbiamo detto abbiamo bisogno di dare forza a un sistema diverso di fare economia e un sistema diverso di fare economia non può che partire dai consumatori dalle scelte che i consumatori possono effettuare ma i consumatori per poter effettuare delle scelte hanno bisogno di essere consapevoli di sapere, di poter scegliere tra cosa e cosa quindi l'invito è quello di venire a conoscerci per poter poi scegliere quello che vorranno ma in maniera consapevole e libera Benissimo, approfondiremo questo argomento ulteriormente proprio nella giornata del 26 perché Fanno TV con le sue telecamere seguirà questo appuntamento quindi conosceremo proprio i produttori e i commercianti e quindi insomma vi mostreremo tutti i protagonisti grazie Massimo Moggiatti grazie a voi grazie Melissa Rosati grazie a voi grazie naturalmente a Riccardo Sora che ci segue dalla regia e tutti voi dell'attenzione arrivederci grazie a voi grazie a voi grazie a voi grazie a voi grazie a voi